Quando Fantozzi fu dimesso, Mariangela finiva il suo tempo. Ah, papà! Mamma, si sta muovendo! Dove? Chi? Chi si sta? Chi si sta muovendo? Che c'è? Ha dato dei colpetti! Fammi sentire a me. Da, da proprio dei colpetti. Due giorni dopo arrivarono le doglie. Eccola, la senti? Che cosa facciamo? Aspetta qui voi, gli va ricorda. Eccola, qui, qui, dieci all'angolo, venghi! Pantozzi fu costretto a portare i portantini allo spenale. Eccolo, eccolo! Ha visto che bel maschiotto, signor Rossi? Lei non è il signor Rossi? No, io mi chiamo Fantozzi. Oh, mi dispiace! Il signor Rossi, dov'è il signor Rossi? Succede spesso. Ora tocca a voi, eh? Niente paura! No, no. Il parto, signor Fantozzi, è una cosa naturale. Nascere è bello, è bellissimo, è bellissimo! Ma come sarà questo bambino? Bellissima! Ti ricordi quant'era carina Mariangela Condennata, eh? Presto, presto! Il dottore è svenuto! Oddio! Ma, ma il dottore, che cosa ha? Eccolo qua! Eccolo! Sì, sì! Sì, noi due! Che fa? Oh! 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 Chi è? Chi è? E per il nostro nonnetto, ipe, 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 urra! Bravo, amori! Cin, cin! Allora ragioniere ce l'ha mica ancora detto, è un maschiato o una femminuccia? Eh, eh, eh! Eh, allora questo, lui non l'hanno ancora deciso i medici. Ah, ecco. E le assomiglia? Eh, no, no, non mi assomiglia niente a me. Beh, ci dica, ci dica almeno com'è fatto, ce lo descriva. Eh, questo, esso, questo... Neonato? Neonato. Parte a tutto un... Un naso? No, non è un naso, questa è la parte di dietro. Il naso di dietro? Sì, perché si può anche... Capavolgere? Sì. Sì, capisco. È tutto un... Dei bozzi? No. Perché... Ehi, è un uccello. No. È... È come... Una tromba, una tromba, suona la tromba. No. Quindi... Ah, senta ragioniere, ma non ha una sua fotografia. Eh, appunto. E con la tromba, la tromba. Ha una... Ha una... Lo sopprezzate. Eh, facci vedere, facci vedere, su, su. Bene, 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 bene. Ecco. Ecco, cos'è? Ce la faccio vedere meglio, su. Un momento. No. Non mi ricordo che... Ah. Avvene detto che mi è molto bisogno di assegnarlo. No, forse dall'altra parte. Come? Eh, ecco. Bumbo. Lei dice... Così dice. Ah, di babi. Ah, ah, cosa state facendo? Cos'è questo cracchio? Eh, stiamo guardando una foto di... Ah, vedere, vedere, vedere. Vuole? Sì. No, non è... Ah! 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 Grazie a tutti